Buongiorno da Anna e bentornati a 100 buoni inizi. La frase del giorno è tratta da un libro che parla tantissimo di amore. L'amore è un elemento che, sebbene invisibile, è reale come l'aria o come l'acqua. È una forza attiva, si muove con onde e correnti simili a quelle dell'oceano. Secret the Power, edito da Mondadori. Vi lascio il link qui sotto. Il dolce del giorno è invece offerto da Fonte del Dolce di Milano ed è una frollina alla confettura. Buona giornata a tutti, che sia dolce delicato come il dolce che ci stiamo gustando e ci vediamo domani con 100 buoni inizi. Ciao! Ciao!